Jacko Band Co. Brilliant, eleganza e innovazione. La collezione Brilliant di Jacko Band Co. è un capolavoro affascinante. Questa eccezionale linea di orologi combina gemme eccezionali con materiali preziosi come l'oro rosa e l'oro bianco, mettendo in mostra l'impegno del marchio verso il lusso e l'innovazione. L'orologio Brilliant Mystery Pave Diamonds rivela l'ora attraverso due lancette nere triangolari apparentemente sospese tra un centro incastonato di diamanti e un'elegante cassa in oro bianco o oro rosa, con un totale di 476 diamanti, per un totale di 8,43 carati. La cassa in oro rosa da 47 mm dell'orologio Brilliant Flying tourbillon è interamente incastonata di pietre preziose taglio baguette. Il punto culminante di questo orologio è il tourbillon. Le lancette dell'orologio, a forma di delicate foglie, creano un contrasto sorprendente con le pietre preziose colorate sul quadrante. L'orologio è alimentato dal movimento al quarzo Jacko Band Co. Calibro GCBM01A, visibile attraverso il fondello in cristallo di zaffiro, rendendolo un vero capolavoro. La serie Brilliant Full Baguette presenta una cassa da 44 mm nascosta da pietre taglio baguette, ma omette il tourbillon, funzionando con un movimento al quarzo svizzero. L'orologio Brilliant Skeleton Baguette presenta una cassa da 47 mm in oro rosa o oro bianco, avvolta da gemme taglio baguette invisibilmente incastonate, che incorniciano l'affascinante opera meccanica esposta sul quadrante scheletrato. La cassa da 44 mm dell'orologio Brilliant Skeleton Baguette Zavoritz è impreziosita da splendidi zevori taglio baguette. Con circa 172 diamanti visibili sul movimento attraverso il quadrante traforato, abbinati a pietre taglio baguette sulla cassa da 47 mm, l'orologio Brilliant Art Deco valorizza il calibro Jetta CAE 05 come un'opera meccanica più decorata. L'orologio Brilliant Pave presenta una cassa in oro rosa da 44 mm decorata con 408 diamanti rotondi. Il totale dei diamanti sull'orologio è di 917 pietre, per un totale di circa 10,05 carati. Senza dubbio, la versione più indossabile all'interno dell'esclusiva collezione Brilliant è la serie One Raw, che presenta una singola fila di 52 diamanti su casse da 38 mm disponibili in oro rosa, oro bianco o acciaio. La versione Brilliant One Raw Zavoritz presenta una singola fila di 52 diamanti sulla lunetta e tre anelli concentrici di diamanti al centro del quadrante in madreperla, con pietre di zevori che adornano i marker d'ora. Per un'opzione più colorata e vivace, l'orologio Brilliant One Raw Rainbow presenta 11 zaffiri multicolori come marker d'ora, abbinati a una singola fila di diamanti sulla cassa e tre file sul quadrante.